Festeggerà il suo compleanno tra gli affetti più cari Vito Ruocco, cittadino di Agropoli, che purtroppo lo scorso 3 aprile è stato ricoverato in subintensiva presso il Covid Hospital di Agropoli a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni cliniche dovute al riscontro della positività al Covid-19. Il signor Ruocco ci ha messo tutto se stesso per sconfiggere il virus e nonostante diverse patologie pregresse, oggi con tanta emozione sorride e ringrazia tutti i medici e il personale sanitario del reparto speciale guidato dalla dottorissa Rosa Lampasona che gli sono stati accanto in questi 50 lunghi giorni di degenza, un bel regalo di compleanno per il signor Vito Ruocco che oggi spegnerà assieme alle persone più care 88 candeline.